Un saluto dal Tg della mobilità, più bus per potenziare il trasporto pubblico al via da lunedì la nuova ripianificazione del servizio che prevede l'utilizzo dei bus turistici per i collegamenti meno frequentati e il rafforzamento invece delle linee ATAC più utilizzate. In particolare, otto linee di bus saranno gestite dal consorzio privato Roma TPL con l'utilizzo di tipologia Gran Turismo. Sui bus, lo ricordiamo, saranno validi i normali biglietti e abbonamenti Metrebus Roma e Lazio acquistati per la zona A. Contemporaneamente, ATAC potenzierà 14 linee di bus. L'elenco completo è consultabile su romamobilità.it Grazie a tutti!